nelle puntate precedenti senti qua fai una roba tu dal primo dicembre al 2 aprile vai all'hotel montana così diventi toni montana apposta già capito oh fioi abbiamo un problema ma ci dite che non mi ha chiamato qua sento abbiamo la sana banda dei semi che ne sono anche capaci di ma già capito non serve che mi spiega ha capito tornare in bondone e quando è scufato? facciamo metà dicembre intorno al 20 che pensi tutti a chiamare Antonio? ma buongiorno stazenza benzie ma io benzie ciao Sietta amica Siendo amico